Il saluto di Papa Francesco alla delegazione di B'nai Brit International è nel segno della dichiarazione conciliare Nostra Etate, pietra a migliare nel cammino di conoscenza e stima tra gli ebrei cattolici. Ripercorrendo i 50 anni di dialogo, il Papa sottolinea i progressi compiuti, le iniziative di reciproca conoscenza che hanno favorito un clima di fiducia e apprezzamento. Ma il punto, che è più a cuore a Francesco, è il lavoro per la pace che in molti paesi del mondo, in particolare Terra Santa e Medio Oriente, richiede un impegno coraggioso. Essa non soltanto va desiderata, afferma il Pontefice, ma ricercata e costruita pazientemente e tenacemente, con la partecipazione di tutti, in particolare dei credenti. Sottolinea poi gli ambiti nei quali Chiesa Cattolica ed ebraismo possono collaborare, come rispetto della vita e del creato, per lo sviluppo di una società che dia speranza alle generazioni future. Infine un pensiero a San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II, che hanno lavorato per far crescere l'amicizia tra ebrei e cattolici. Sulle loro orme, afferma il Papa, desidero continuare a camminare, incoraggiato anche da tante belle esperienze di incontro e di amicizia vissute a Buenos Aires.